cari colleghi ormai ci siamo siamo veramente vicini all'inizio del chip la prima edizione di questo congresso internazionale che si terrà a milano il 15 16 ottobre quindi veramente pochissimi giorni e ci tengo a fare questo video messaggio di presentazione perché le caratteristiche di questo congresso sono veramente uniche a partire dalla platea la platea sarà una platea di cardiologi interventisti e cardiochirurghi internazionale del primissimo piano quindi ci saranno i migliori i più bravi i più importanti cardiologi interventisti cari chirurghi italiani e ci saranno anche cardiologi interventisti stranieri europei e collegati in streaming ovviamente per restrizioni che possiamo immaginarci anche dagli stati uniti d'america ovviamente il congresso sarà dal vivo c'eravamo riproposti con la segreteria organizzativa di non farlo qualora ci fossero restrizioni covid ma adesso possiamo farlo lo faremo dal vivo interamente dal vivo ed è per questo che sono veramente contento di presentare la caratteristica fondamentale di questo incontro però è proprio la sua sostanza corrisponde alla sua sostanza cioè non sarà un incontro legato a un determinato tipo di patologia non parleremo della valvulopatia ortica o della malattia coronarica ma parleremo del paziente infatti il nome chip il nome del congresso deriva proprio dall'acronimo inglese che sta a rappresentare il paziente complesso e difficile e il trattamento più adeguato per questo quindi noi prendiamo il paziente nel suo intero e cerchiamo di capire qual è l'approccio non solo la terapia non solo l'intervento ma l'approccio terapeutico migliore anche nel follow up questa è la filosofia del nostro congresso ed è la caratteristica principale e peculiare parleremo del congresso dal punto di vista dei temi scientifici delle innovazioni principale per quanto riguarda la patologia coronarica sia dell'imaging quindi come fare a capire come sono costruite dal dentro le coronarie anche per vedere qual è il trattamento migliore per loro le terapie più innovative in termini di stent scaffoli assorbibili e palloni medicati poi parleremo anche della valvulopatia aortica ci sono tre sessioni dedicate interamente alla TAVI e a questo tipo di intervento mini invasivo per i nostri pazienti più fragili e più delicati avremo una sessione dedicata a lipide e a come combattere questo silent killer questo non fattore di rischio ma questo fattore eziopatogenetico che ci colpisce colpisce i nostri pazienti e un'altra sessione sarà interamente dedicata alla valvulopatia mitralica quindi cerchiamo di prendere a tutto tondo con al centro il paziente tutte le patologie cardiovascolari di cui questo può soffrire ovviamente il protagonista sarà il cardiologo e saranno tutti coloro che vorranno venire spero anche tu il 15 e 16 ottobre a milano tengo a dire che il cappello scientifico dell'evento sarà ad appannaggio della fondazione ricerca e innovazione cardiovascolare di cui faccio parte la fondazione ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica in italia e infatti il leitmotiv di tutto il congresso sarà proprio la base scientifica delle terapie attuali delle terapie future per i nostri pazienti ci sarà addirittura una sessione completamente dedicata ai giovani dove verranno pubblicati e presentati i risultati dei primi tre classificati di un contest scientifico a cui hanno partecipato cardiologi interventisti italiani perché noi vogliamo ovviamente dare risalto alla cardiologia interventistica italiana e ai giovani ricercatori e quindi il vincitore di questo contest riceverà una borsa di studio finanziata dalla fondazione ricerca e innovazione cardiovascolare che gli permetterà di portare avanti questo progetto di ricerca innovativo tante cose avremo ospiti anche del panorama scientifico non solo cardiologico internazionale avremo una rappresentanza di altissimo livello direi apicale del ministero dell'università della ricerca e avremo anche degli ospiti sportivi che faranno almeno questo chiederemo a loro di fare da portavoce del nostro messaggio anche al di fuori dei confini di milano al di fuori del 15 e 16 ottobre perché il paziente cardiopatico deve essere conscio il prima possibile della sua patologia e noi siamo qui per curarlo quindi vi aspettiamo il 15 e 16 ottobre a milano l'hotel rosa grand il provider sarà summit e sul sito sul sito sia della fondazione ricerca innovazione cardiovascolare www.fondazioneric.org o sul sito di summit troverete tutte le informazioni per potervi iscrivere vi aspettiamo